Gigi a tutti ragazzi sono Elien e bentornati su Destiny Come avete visto queste sono ore bollenti La patch 1.2.0 è stata rilasciata E anche le sue patch notes che ho analizzato nell'ultimo Zur presenta in versione speciale Che ho pubblicato comunque stamattina E di cui vi lascio il link in descrizione Se non l'avete già visto potete farlo adesso E anche cliccare sul riquadrino che vedete in questo momento Comunque in questo video veloce vi mostro come prendere un nuovo spettro morto Che è comparso con il rilascio della nuova patch Uno spettro che si trova nell'area iniziale del cosmodromo Quella praticamente accessibile solo quando create un nuovo personaggio E che quindi dopo la prima missione diventa inaccessibile Questo sino a ieri Come vedete vi lascio il percorso completo per ritornarci Bene, particolarità di tutto questo Che l'area che appunto sino a ieri era vuota Adesso è popolata Di cosa? Di due tipi di mine Quelle laser che scoppiano creando ingenti danni Se attraversate il raggio di attivazione Ma soprattutto vedete anche le nuove mine Che troverete nella prigione degli anziani Sono mine che non provocano danni Ma che comunque vi rallentano e vi disturbano la visuale Oltre a trovare i caduti in quest'area Beh, come potete notare Tutta questa strada è rovente Quindi non sarà proprio immediato arrivare a destinazione Visto le mine che dovrete evitare lungo la strada Una volta arrivati a destinazione Cioè nell'area piena di macchina Ve la ricordate no? Che comunque potrete esplorare un pochetto Per trovare lo spettro chiamato Il destino di Skolas Dovrete salire su quella piattaforma con i vetri rotti Ed avanzare fino alla punta Lì troverete il nuovo spettro Vi ricordo che se vi interessano anche tutti gli altri spettri morti In descrizione trovate ogni singola guida che ho pubblicato Questo è quanto Grazie per essere stati in mia compagnia E vi saluta Love and peace